Ieri 7 marzo è stata presentata dalla cooperativa Daedalus la prima sfilata dell'atelier della startoria sociale Chak Siku. C'è un progetto, quello della startoria sociale, che nasce all'interno del progetto Officina del Fare e che coinvolge giovani e donne che provengono da paesi e da culture diverse con l'obiettivo di sperimentare la bellezza delle culture. Abbiamo con noi ospite per parlare di questo progetto, Mariola Grozka, buongiorno, bentrovata. E naturalmente per rendere, restituire a pieno il senso del progetto e quindi mostrare anche al nostro pubblico cos'è che realizzate, abbiamo le nostre modelle Asma, Eccola e Antonella. Buongiorno, dunque bentrovate. Allora Mariola, andiamo proprio nel vivo del progetto perché questo progetto che coinvolge persone provenienti da paesi diversi che hanno storie passate sicuramente differenti e che insieme si sono uniti per produrre il bello, ma soprattutto per testimoniare che le differenze culturali diventano e sono un valore aggiunto, tutt'altro che un limite. Esattamente. L'obiettivo è proprio questo, attraverso l'incontro tra le culture, tra i vari vissuti, di produrre arte, di fare delle cose dove le donne in qualche modo si rispecchiano, dove anche nella sartoria abbiamo la possibilità spesso di parlare, di confrontarci in quel luogo dove si intrecciano le storie di tante donne, di tante persone provenienti da 12 paesi. 12 paesi e alcune di loro purtroppo hanno anche alle spalle delle storie di violenza. Esattamente. Quindi come il lavoro diventa l'occasione non solo per imparare un mestiere, ma anche di intessere quelle relazioni cogliendo il bello e appunto quelle differenze tra gli individui. Sì, infatti in sartoria nel nostro atelier si impara un mestiere nuovo per chi magari non sapeva, ma si valorizzano anche delle competenze, delle capacità delle persone che lo attraversano. Le vere risorse umane. Allora, parlavamo appunto di ieri, 7 marzo, ciacca si cuce, parte questa prima sfilata, ore 17.30. Quali sono le emozioni che possiamo raccontare a distanza di un giorno? Provate anche dalle stesse protagoniste, insomma, di questo progetto. Allora, sicuramente c'è stata tantissima emozione, perché chi magari ha partecipato a questa iniziativa e non ci conosceva prima, e poi c'è il restituito che traspareva un po' tutto quello che era non solo l'emozione di quella giornata, ma anche il vissuto delle protagoniste. Parliamo di protagoniste, perché noi lavoriamo con le donne e non per le donne. Con le donne e per le donne, ma avviando anche un'altra mission importante di carattere sociale, perché la produzione della vostra sartoria, la sartoria sociale per l'appunto, punta alla sostenibilità e quindi all'utilizzo dei materiali di recupero. Per esempio, attraverso l'utilizzo di lucandini e dei film, come il nostro regista Salvatore Mondò prima appunto è rimandato anche al nostro pubblico, attraverso queste immagini fotografiche di supporto, utilizzate ad esempio delle lucandini di film passati per le sale da cinema modernissime, invece di farle andare alla macele, le riutilizzate per realizzare queste borse, le borse che oggi sono qui rappresentative della vostra sartoria sociale. Esattamente. L'atelier, come potete vedere, si chiama Ciaxi Cusce, non solo per richiamare un po' questa collaborazione con il cinema, ma anche per un nuovo inizio, perché molto spesso le persone che frequentano Atelier per loro è un nuovo inizio, una conoscenza anche di tutto ciò che il territorio può offrire. Attraverso la potenzialità appunto vengono utilizzati questi scarti recuperati per la produzione di borse, come stiamo vedendo, ma anche astucci, accessori, tanto altro, oppure anche l'utilizzo delle pelli che vi vengono restituite dagli artigiani locali e da lì parte poi la vostra notevole creatività. Sì, sì, anche lì infatti in queste occasioni abbiamo la possibilità di sperimentare le capacità delle donne. Anche attraverso il lavoro viene tutta la bellezza delle donne, delle persone che frequentano quel luogo. Quel luogo. Alcune donne, tra l'altro, che lavorano da voi, nella vostra azienda, sulle sartorie sociali, una volta imparato in mestiere, hanno anche che cosa? Hanno il dono come regalo, ma in realtà è un aspetto piuttosto metaforico, e quindi va oltre il gesso dell'addono della borsa. Quindi la borsa come significato di inizio di un nuovo percorso lavorativo, perché in realtà si parte dal mondo lavorativo, da quella indipendenza economica, da quella dignità che appunto il lavoro restituisce, affinché una donna che però appunto è stata vittima di violenza e quindi ha un passato alle spalle sicuramente da cui si vuole liberare, la borsa è rappresentativa di un nuovo viaggio da percorrere e da incamminare insieme poi magari a chi le supporta. Certo, anche perché la cooperativa Dedalus si occupa anche di formazione, inserimento lavorativo, quindi a partire da un corso come questo, acquisendo o potenziando delle competenze, delle capacità, le donne possono poi inserirsi nel mercato del lavoro. Intanto, ecco, se possiamo, lo chiedo al nostro regista, vedere sì le immagini, ma soprattutto la realizzazione di queste borse che appunto caratterizzano l'impegno della vostra società Sartoria Sociale. Non possiamo che farvi complimenti per questa bellissima realtà, ma un progetto che pone a pieno il senso di vivere, la sostenibilità, tener cura, tutelare il nostro paese, quindi integrazione, lotta alla discriminazione, l'umanità, rispetto per il pianeta, divenendo un vero e proprio fiore all'occhiello, sia per noi, ma per la stessa Delta Luce, che cosa vi augurate? Allora, sicuramente, ci auguriamo e auspichiamo che questa realtà, questo progetto in particolare, può produrre anche i posti di lavoro, ospitare dei tirocini e portare anche la realizzazione di queste borse ai livelli molto più alti. Certamente, quello che noi ci auguriamo, tra l'altro, 8 marzo, ma anche per quanto riguarda Dedalus, il mese di marzo, il mese dedicato ai progetti per le donne, che cosa dobbiamo aspettarci? Cosa c'è in cantiere? Allora, sicuramente tanta roba, quindi ci sono varie iniziative, per esempio, stasera e domani, siamo ospiti al Trianon, con delle iniziative, e siamo lì anche come ciac si cusce. Complimentissimi, noi vi auguriamo tantissimi progetti da portare a segno, ma soprattutto che le donne possano effettivamente avere una carriera prolifica attraverso il mondo della sartoria sociale, partendo da lì, ma spiccando veramente il volo. Grazie, grazie a voi, grazie a Mariola Grosca per essere stata con noi, per averci sporgato il progetto della sartoria sociale, Ciac, sicuramente ringraziamo anche le modelle Asma e Antonella. Noi ci ritroviamo tra pochissimo, restate con noi. Grazie.